Il film di S.G. Chi che ne ve l'edetto? Ben diglio! Professor Otto Von Kanz, più che prestigiatore di disco! Buongiorno, ci abbiamo dato dentro, eh? Prendete il vostro libro di diritto. Villaggio! Presente. Bravo, Paolo, raccontano un altro. Mi spieghi perché non ridi delle mie battute, invece ridi quando mi vedi? Ma dei zoccoli. Ciao. Ma secondo voi io lo potrei fare, l'attore? Sei talmente bello. Cosa stai suonando, Sam? Oh, ma sei scemo. Stai attento, ragazzo. Un giorno potresti pentirti di quello che hai detto. Balliamo? Meglio di no, guarda. Sono legato. Che ti frega. La verità è che la prima volta che ti ho visto, mi è venuta la colite spastica. Mi sono innamorato. Tu, innamorato? E di chi? Di Maura. Paolo, ci sono rimasta. Male? No, Paolo, sono rimasta incinta. Che cosa? Ma tu lo sai cosa vuol dire fare padre di famiglia? Per prima cosa devi sposare Maura. Salve, gente! Salve. Evviva gli zoccoli! Dammi un po' un bacio. Attenzione! Mia che roba! Ma sono qui i delinquenti! Ti ho trovato un lavoro. Un impiego la considero. Dovrei fare l'impiegato. Eh, Villaggio, tu qui sei sprecato. No, guarda, ti prego, non dirmelo anche tu. E che vuole cambiare vita. Ma non so come fare. Paolo, hai un sacco di qualità. Ehi, mangia cartoffel! Tornateli in Germania! Senta tu, Martaccio! C'è no Felsen! Eh, Gianna c'è febbrone. Vai tu sul palco. Ha, ha, ha! Mi chiamo Maurizio Costanzo. Direi che qui a Genova l'hai sprecato. Fracchia, mi dica cosa diamine vuole. Sì, ecco, io ci volevo proporre di abbassarmi lo stipendio. Va bene, accordato. Oh, come umano lei! È che lunghi! Grazie a tutti. Grazie a tutti.